Sì, oggi è una giornata importante perché consegneremo a sei cittadini della provincia le onorificenze al merito della Repubblica Italiana, che sono state conferite dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un momento molto importante perché è un riconoscimento da parte dello Stato Italiano a cittadini che si sono distinti nel fare il loro dovere con impegno, con dedizione a favore della comunità e quindi nell'interesse della nostra Repubblica. Sono particolarmente lieto anche perché è il primo anno che consegno da Prefetto onorificenze in una provincia che sinceramente posso dire mi trovo molto soddisfatto perché mi piace esercitare la funzione in uno spirito di grande collaborazione che c'è sia con la cittadinanza e anche con i sintaci e le diverse associazioni che vi sono presenti sul territorio.